Il Castel del Monte, dopo dieci anni consecutivi, escluso il 2020, anno caratterizzato dalla pandemia da Covid-19, esce dalla top 30 dei monumenti statali più visitati in Italia e arretra decisamente anche nel numero di visitatori, riportando la lancetta del tempo al 2014. Il dato emerge dalle statistiche pubblicate dal Ministero della Cultura. In Italia, nel 1996, anno in cui si parte con le statistiche, i visitatori in musei, monumenti e aree archeologiche statali erano 25 milioni. Nel 2023 c'è stato invece il record assoluto, con oltre 57 milioni di visitatori e 313 milioni di euro di biglietti venduti. Un dato in controtendenza, proprio quello di Castel del Monte, che si ferma a 237 mila visitatori, ed in cassonetto, che ha comunque superato il milione di euro. In un anno comunque complicato di ripresa dopo il Covid, come il 2022, invece, il Castel del Monte si posizionò al ventottesimo posto, con 213 mila visitatori. Nel 1996, anno in cui è stato inserito tra i siti patrimonio dell'UNESCO, il maniero federiciano contava meno di 100 mila visitatori all'anno e entrò i tipari a circa 115 mila euro. Nel 2019, era pre-Covid, il Castel del Monte è arrivato ventisettesimo nella classifica italiana, dei monumenti più visitati, con il record di 270 mila visitatori, oltre 1 milione e 200 mila euro di incassi lordi. Per entrare nella top 30 si sarebbe dovuta raggiungere la quota di almeno 247 mila visitatori, quelli che sono entrati a Sirmione, nel Castello Scaligero, dove però l'incasso lordio è ampiamente inferiore a quello di Castel del Monte, che in questo caso è invece ampiamente nella top 30. In Puglia, tuttavia, il maniero federiciano resta il primo monumento. Il Castello Svevo di Bari, secondo in graduatoria, ha fatto 126 mila visitatori con un introito di circa 400 mila euro. Il Museo archeologico nazionale di Taranto, terzo in graduatoria, si ferma a quota 76 mila visitatori con 183 mila euro di incasso. Il peso di Castel del Monte per gli introiti pugliesi dei siti statali è ben oltre il 50%. Tutte informazioni statistiche, su cui però riflettere e non poco. L'area di Castel del Monte resta completamente abbandonata a se stessa e a riprova di questo negli ultimi giorni ci sono almeno due elementi, oltre quelli che più volte abbiamo denunciato attraverso la nostra emittente. Il primo è la denuncia della consigliera regionale Grazia di Bari, che ha mostrato le foto di quanto accade generalmente nelle serate estive a Castel del Monte, cioè la completa anarchia nella gestione delle auto e dei visitatori. Questo, abbinato alla mancanza di tanti altri servizi per turisti e per i residenti, creano poche difficoltà di accesso al maniero. Proprio oggi, invece, è arrivata la denuncia su Instagram di Piero Amelio, uno dei più seguiti divulgatori di monumenti in Italia. Sono in c***o nero. Sono qui, a Castel del Monte, per vedere questa meraviglia. Il problema non è il monumento in sé perché è bellissimo, ma appena arrivato mi sono sentito spremuto come un limone. Allora, io questa cosa non la sopporto perché io penso che i turisti vadano rispettati, perché è quello che dà poi ossigeno ai monumenti italiani. Si paga sempre troppo per un servizio decisamente scarso e senza alternative, ma il fatto che si paghi molto e che su Castel del Monte ci sia comunque una strategica attenzione degli organi che lo gestiscono da un punto di vista economico, lo si evince proprio dall'incremento dell'introiti, che è arrivato a dieci volte in più rispetto al 96, con un magro raddoppio invece dei visitatori. Segno chiaro che l'attrattività per le bellezze di una delle meraviglie del mondo non è certo accompagnata dall'organizzazione turistica e locale attorno. Un'opportunità economica e di lavoro che continua a essere mal gestita è con una babele di istituzioni e nessun reale beneficio alla comunità e i dati lo dimostrano e come facili profeti lo dimostreranno anche nei prossimi anni.